A Napoli sette mesi fa fu difficilissimo tenere testa qui l'Inghilterra, oggi è cambiato tutto, senti fiducioso che possa essere diverso contro lo stesso avversario? Ma sappiamo che davanti avremo una grande nazionale con grande individualità, l'abbiamo visto sicuramente nella partita di Napoli, però insomma siamo pronti, abbiamo lavorato bene in questo raduno, quindi ci conosciamo meglio anche con il mister e insomma sono sicuro che faremo una grande partita. L'11 luglio del 2021 lì tu c'eri, ti chiedo a parte il mio momento in cui avete usato la Coppa, ma qual è stata la sensazione più forte che ancora ti porti dentro, il momento che nella tua testa è rimasto decisivo in quella serata? Sicuramente i rigori sono stati molto emozionanti, ma i festeggiamenti, insomma è uno stadio sicuramente che ci ricorda dei momenti belli, però dovremmo metterli da parte e pensare subito alla partita di domani perché sicuramente sarà difficile, però insomma la squadra sta bene e quindi siamo pronti per giocarla. Scusa se insisto su questa cosa, ma ci chiedono pezzi di suggestione, quindi diciamo nel momento in cui entrerai in campo però un'immagine che ti verrà in testa di quel giorno? Ma in quel giorno sicuramente lo stadio era pieno di inglesi, però insomma già giocare una partita così, una finale di un campionato europeo ti lascia delle belle emozioni e poi vincerla ancora di più. Quindi è stata una serata, una notte che mi porterò per sempre dietro, però come ho detto insomma domani ci sarà da pensare alla partita e lasciare da parte tutte queste emozioni. Ecco l'ultima su domani, soprattutto nella tua zona, insomma ci sarà bel traffico, importante e pesante nella tua zona di campo. Sì, sicuramente come ho detto prima hanno tantissime individualità e da quella parte insomma hanno grandi giocatori, forti nell'uno contro uno, sarà una bella sfida, però come ho detto siamo pronti e ci siamo preparati bene per affrontarli. Grazie, in bocca a lui. Grazie a tutti.